Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Quei due sul server 2 con piante contro zombie Garden Warfare Garden Warfare, è un giochetto che ci piace particolarmente E adesso siamo le piante, siamo squadra piante e stiamo facendo una partita Se voi siamo solo io e sinergo Esatto, è una sorta di single player cooperativo questo E dobbiamo cercare di capire quali sono le piante più adatte a combattere in due Ah, io ho preso la mastica zombie Poi ho preso la mastica zombie, io credo che prenderò il cactus allora Anche perché ce l'ho abbastanza violento Sì, anche perché il cactus l'ho usato pochissimo Ma quello c'ha il camper volante Anch'io voglio un camper volante, dove sei tu? Ah, eccoci Vieni Ah, non mi sparare Ok Io sono skillatissimo con questo perché ho capito come utilizzare bene le cosine che ho Giardino Pianta un giardino Dobbiamo piantare un giardino Poi piantiamo Io direi di piantare questo al centro Poi magari potremmo piantarne anche tutti e tre, che dici? Ah, sì Si può aprire la porta, secondo te? No No, credo proprio di no Allora passiamo di qua Allora Sì, stiamo piantando John il pazzo qua Pianta un giardino Piantala Oh, guarda quanto è ben defendibile questa collinetta Sì Allora dovrei prendermi anche io qualcuno che spara da lontano Ma Va bene Si stanno già sparando? Hai piantato un giardino? Wow Ok Bello il giardino Guarda che bello Ora ci dobbiamo avvicinare ai vasi Oh, ok Dobbiamo Mettiamoci le cose forti Dietro mettici un girasole Dietro? Sì Se c'è un altro Allora devo spiantare questo No, non lo posso spiantare Ok, andiamo a rimpiantare anche questi altri vasi Praticamente siamo io e Sinergo contro il mondo Quindi bisogna stare attenti Mettine un girasole, eh, che non c'è Eh, il girasole dietro lo dobbiamo metterli Non serve un... Eh, lo so Ha un cazzi Io ho il colpo di bambù Non lo so che cos'è il colpo di bambù Ok Guarda che bello Non sa che stanno arrivando Ah, di là stanno arrivando È figo il colpo di bambù Credo sia un mortaio, sai? Potrebbe essere, potrebbe essere bene Metto un po' di trappole intanto, eh Tu anche dovresti avere le trappole in realtà Ok Ok, allora io li faccio rallentarci Metto quello che congela qui Che almeno rallentano Bisogna... oh, eccoli Mi sa che ci dobbiamo dividere, credo Sì, dovremmo dividerci ragazzi Probabilmente vedrete questa partita Da entrambe le visuali Perché dovremmo dividerci per mantenere Le posizioni al sicuro Sì, credo proprio di sì Allora Da me non sanno Orda perfetta Wow Cazzo, ma è come Ork Must Die Sì, sì, sì Noi stiamo giocando Orks Must Die Senza che sia Orks Must Die Con una grafica ha un filino migliore Minch Orda 2 Sta arrivando ragazzi Orda 2 Si dividono le orde E... Vince a diventare pericolosa la faccenda Ah no, però arrivano tutti di là Da te Intanto piazzo trappole Le mie trappole sono potenzialmente infinite Arrivo, 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 arrivo Guarda quello dove sta andando Occhio, occhio, occhio No, io non ti preoccupare Ma è un soldato delle mie palle Ah, è saltato Minchia Occhio, occhio, si avvicinano Stanno arrivando dall'altra parte Aia, chi mi ha sparato? Guarda, guarda quanti ne sono Mamma mia, la faccenda si fa difficile Quanto è bello il cactus ti fa cecchinare Appa, proteggimi Proteggimi perché quando mangio ci metto tempo Ah, si, ti possono incaprettare E questa è la mia pianta che ha fatto il suo sporco lavoro Oh yeah ragazzi, oh yeah Oh, non so perché, ah, mi hanno ammazzato questi Sti maledetti Bracca a quei capitani in men che non si dica Signore, ci si prova, eh Dove stanno i capitani? Non lo so, vengono dal centro Porca mia Ok, un'orda, un'orda viola Verso sinistra Allora io penso a quello di destra Ok, perfetto Aia Carca puttana Sto arrivando Metta questo Ah, ah, ah Ok Oh, attenzione che mi stanno incaprettando Ah, ci sei, ok Occhio a... Ok, eh, vado sotto Ecco questo che è quello più pericoloso Maia Oddio ma... Che cos'è questa pianta? Ah, la bocca di drago Ma l'hai visto quanto è figa? L'ho piazzata io, no? Non l'ho vista Che fa? Eh, su, vieni a vederla Quanto cazzo è bella Ah, ma fa... Madonna, gli tira il fuoco È fantastico sto gioco Oh, oh, oh Oh, questo scappa Tanto me li mangio tutti Non passi Merda Più 500 Yeah Aia Ma non ti meno? Non ti meno, vero? Si può spiantare la pianta, no? Dobbiamo aspettare Anche perché la... La pianta gira solo lì Potrebbe tornare veramente utile Ok, io ho piazzato Un po' di Claymore da questo lato Così siamo tranquilli Che pianto? Allora, un'altra pianta Oh, stanno arrivando Quelli più tosti adesso Aia Eh, sì Le mie Claymore dovrebbero fare effetto Zombie eliminato, no? Nonna Tre headshot per fare il secco Quella con il coso in testa, lì Tosto, è tosto Eh, il girasole muore subito però, sai? Come il girasole? Ah Eh, l'ho piantato per... Ah, ah, ah Cazzo, cazzo, cazzo Zombie col giornale Dov'è lo zombie col giornale? Oh no, è morta la piantina Chi è morta? Bocca di drago Sì No, bocca di drago no Spara semi focosa Aspetta che la ripiantiamo la bocca di drago Io metto qualcosa pure di qua Madonna È un macello fra un po' Slot di zombotromb Attivare immediatamente È la vostra fine Che cazzo è questo? Lo so Ah, questo Questo Seleziona random Il contenuto Ah, perfetto Più 500 È andato bene È andato bene Poteva capitarci molto male Con magari con Uno zombie veramente tosto Un mega boss Comunque qua potrebbe tornare utile anche Ah, ma tu sei un ingegnere Tu mi sa che puoi piantare le torrette No, io sto piantando Io non ho ancora sblocco niente Madonna, mi hanno ucciso Come da? Aiuto Aiuto, aiuto, rianimazione Ti posso mangiare? Aspetta, uso l'autorianimazione Oh, merda Hai l'autorianimazione? Cazzo Madonna quanto è tosto Come hai fatto a morire però? Non ho capito Eh, perché questi sono fortissimi Disco stu qua Picchia Danza macabra Adesso lo prendo Oh Ha bisogno Ho bisogno di un Aia Oh, ma sto cazzone è maledetto Vado sotto terra e lo ammazzo Lo ammazzo come poche cose Ascia la piantina Ma no, cazzo Non posso Non me l'ho mangiato la piantina Non me l'ha fatto mangiare Non me l'ha fatto mangiare Lo sai? Disco stu non si ammazza Roia Oh Oh, discostu è tipo un boss, credo Ma credo che quello sia stato Oh, no, guarda Non me l'ho fanno mangiare Ah, cazzo In attesa di rianimazione Dove sei? Ehm, non lo so Vieni mi Ecco di là 10 secondi Madonna, discostu Porco il cazzo Usa auto rianimazione Ma se Se attendo la rianimazione Che succede? È morto discostu Aspetta, aspetta Vengo Ti rigenererei Quando l'orda sarà completata Merda Mi rigenero Se l'orda viene completata C'è un Ok, questo è morto Se Se è In questo vaso Alla prossima volta Ci mettiamo i girasoli Così almeno Dai Ti sto seguendo Sei l'ultima speranza Per Oh Ok Io direi Fermiamo qui il gameplay Ok Ragazzi Ne vedrete Ne vedrete due Uguali Però sono Due prospettive Completamente diverse E vanno a guardare Quindi alla prossima Esatto